A dieci anni dal referendum sull'acqua pubblica arriva una proposta del comitato consultivo utenti del consiglio di bacino dolomiti bellunesi per il servizio idrico. Si tratta di un semplice questionario che servirà a indagare sulle abitudini dei bellunesi in merito all'acqua di rubinetto, se è uso berla, se ci sono motivi per i quali generalmente non venga utilizzata. L'Italia è il terzo paese al mondo per consumo di acque minerali. Questo sondaggio servirà a capire se le acque delle sorgenti di montagna ispirino effettivamente più fiducia. Nasce dalla sensazione che su questo tema, sul tema dell'acqua di rubinetto, ci siano, come dire, molti miti, molte leggende, molte cose dette ma mai verificate. Siamo in una zona di montagna, ci si auspica che noi abbiamo a disposizione un'acqua di sorgente. È vero che è così, noi sappiamo che è così. Allora perché non berla? Verifichiamo in questo modo, con questo semplice questionario, in che misura viene bevuta e se no, per quali motivi? Il comitato consultivo degli utenti è un organo, un organismo del Consiglio di Baccino Dolomiti Bellunesi per il servizio idrico, quindi è un comitato obbligatorio, istituzionale, con l'intento ovviamente di aggiungere al Consiglio di Baccino una sorta di altra voce, una voce che comprendesse i cittadini, l'organizzazione, come è la composizione del nostro comitato. Dal comitato la speranza di una massiccia partecipazione, più risposte verranno collezionate, più sarà semplice fornire un'immagine precisa della percezione del cittadino sulle acque bellunesi. Questo non è un questionario scientifico, non ha questa pretesa, ma certamente alla fine forse riusciamo a identificare quali acquedotti hanno qualche difficoltà in più e allora o confermeremo i dati che il BGSP, cioè il nostro gestore, ci fornisce ogni anno, oppure forniremo al gestore, al Consiglio di Baccino e al gestore, la possibilità di verificare o di migliorare o quindi di fare investimenti laddove oggi non sono previsti.